Wow! Sta facendo il gelato usando il fuoco! Wow! Wow! Ha messo la salsiccia sullo spiedo! E l'ha arrostita! Wow! 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 Sono spanne sopra di voi, dilettanti! Ha! Dovresti affilare meglio le tue armi! Infilzerò i vostri sogni di gloria! Aspettate e vedrete! Mamma mia! Il mio olio d'oliva! Solo tu puoi scongiurare gli incendi, Ben! Con acqua spruzzo, magari! Troppo banale, nonno! Può anche occuparsene... Vite elastica! Vite elastica? Salverò l'omino dell'olio con le mani legate dietro la schiena! Ecco a lei, signore! Con contorno di... Le ho salvato la vita! Quella strana pianta di prezzemolo è senza precedenti! È davvero una verdurina deliziosa, eh? Infilzerò quel testa di lattuga su uno spiedo e lo arrostirò! No! Le tecniche chimiche sono le più adatte per esaltare quell'insalata! Cosa? Solamente la mano più capace può affettare quelle fibre! Io ho uno spiedo! Ben, non pensi che sia ora di andare? Scherzi? Ma mi hai visto? Sono una celebrità! Selfie e autografi gratis insieme al migliore per tutti i presenti! Fai sul serio? Fagli gustare il momento! Noi faremo lo stesso all'Albi Bicocca dei Formaggi! Pensi di poter mangiare più formaggio di me? Non deve esserci una gara per tutto! Ma nel 78 ho vinto la sfida di mangiaformaggio del Midwest! Fatti sotto! Sì, tranquilli! C'è un po' di vita per tutti! Prendete il mio profilo migliore! Mentre mi defilo! Ah! 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 Ah!